Ecco il video di ghinastica posturale, guarda, i primi tre eserchizi vi mostrerò, questo il video di ghinastica posturale, guarda, i primi tre eserchizi vi mostrerò, questo il video di ghinastica posturale, guarda, i primi tre eserchizi, guarda, i primi tre eserchizi vi mostrerò, ok, secondo esercizio, che è questo, questo è un po' di cucina, lo so che va, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, e poi lo so che va, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene e la faccia passo, la ritmo dei primi tre eserchi diatoria come indicculo la a me l' Konstselleri, mamma mia smettimaan il fill passionale della spot Ok, l'ultimo esercizio è questo. Un momento. Un momento. Di stendere le mani e fare questo movimento. Ecco qui. Ok, il video di gimnasica finisce qui. Ciao.